Io sono Nicola Brognano, ex studente dell'Istituto Marangoni del corso Fashion Design e sono il direttore creativo di Blue Marine. Il mio stile è questo, rendere una donna femminile, sexy, però mai volgare. L'idea che sto portando avanti è un voler ricreare un immaginario che non si aveva da tanto tempo, quindi quello che è l'estetica dei primi anni 2000, ovviamente è riportato ai giorni nostri, quindi è reinterpretato e reso più contemporaneo. La Marangoni era sempre la scuola che tutti mi consigliavano di più. Il primo giorno di scuola è stata una giornata molto emozionante per me, perché era proprio il primo giorno in cui comunque entravo a far parte di una cosa che ho sempre desiderato, che ho sempre voluto. Sono arrivato che non conoscevo nessuno e fatalità, di fianco a me c'erano tre persone che tuttora sono le persone che mi stanno ancora più vicino. Marangoni è una scuola dove comunque ci sono ragazzi molto giovani, con delle menti molto aperte, quindi hai voglia di socializzare, di scherzare, quindi è veramente difficile non crearti un gruppo. Sicuramente il modello era una delle mie materie preferite insieme a collezioni, perché era proprio voler andare sempre con le elezioni perché ci trovavamo tutti bene, si era creato proprio una sorta di famiglia comunque in classe. La città di Milano è diventata ormai la mia città, cioè non rinnego sicuramente le mie origini, però ormai la mia vita è qui e il mio futuro per me è a Milano. Sicuramente dopo tutti questi anni ci sono state diverse cose che nel percorso lavorativo e della mia vita che mi hanno fatto non cambiare ma maturare in modo diverso. Non si smette mai di crescere e di migliorare. I miei obiettivi sono di continuare a voler far arrivare a tutti quello che è la mia visione di moda, la mia creatività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.